Sono Davide Oldani, cuoco per passione, chef per professione. Sono orgogliosamente felice di essere qui in Casa Italia, a Parigi. La mia passione nasce naturalmente da quello che è il mio mestiere attuale, ma anche dal sogno che avevo, dal desiderio, il sogno che avevo da piccolo, che era quello di diventare un grande sportivo. L'uomo vive con il movimento e il cibo, potrebbe vivere con lo sport e la grande cucina. La dedizione, la passione, il fatto di continuare a provare per arrivare all'eccellenza. L'Olimpiade è naturalmente un senso di università, ma di unione. La cucina è anche lei, una cosa a seconda della provenienza, è cultura, è unione, perché il cibo unisce, è insombria, cioè l'insieme. L'idea di cucina che faremo qui in Precatelon, con le quattro mani che faremo tutte le sere, con Frederic Anton, salone piatti firmati da me e dal mio team. Cucina di padrone trasversale, nord, sud, ovest, est. Il mio concetto di cucina, di equilibrio, di contrasti, è quello che puoi mettermi in sonno, mettermi insieme, mettermi in armonia. E quando c'è un giusto contrasto con l'equilibrio, si ha una buona cucina, si ha una grande cucina. Questo è quello che io desidero dare ai miei ospiti ogni volta come me. Grazie a tutti.